Nel dibattito sulla riforma elettorale, l'ho stato tirato per la giacca da chi è evocato, da chi è insultato, a chi mi insulta non rispondo, perché non voglio parlare solo e esclusivamente di politica. Però in direzione con tutto quello che ho ascoltato, credo sia giusto o portuno, è sempre guaiare, è sempre giusto e portuno, è sempre rispondere, spiegare, è chiaro, starei direttori, è una guadagna direttora, non è un corpo di mano. Tanto meno è un colpo di scatola, il migliori possibile in questo momento storico e in questo Parlamento. Dicono, Presidente, il regno del regno all'ordine si accomodi, visto che stavo uscendo si accomodi fuori. Dicono che la legge sia figlia mia e chiedo che mi dispiace, però direi che forse in ritmo di tutta questa legislatura è stata un compromesso. Dicono che si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di articolo 1 e 2 del nostro ingresso. Dove è vero? Perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura. Gli applausi sono sempre piaciuti, ma ho sottoporto con me, direttori. A nostra spada la presenza, a sterilizzare i massimalismi post-comunisti e gli internalismi cartonici. a fare l'acciglia di ripro a la στα uno dei master, a la fronte, a fare l'acqua per hectare, a fare l'acciglia di letto 4 che prendere quel lavoro e essere preparati dal punto di attività, a fare l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua, a fare l'acqua per la parte dell'acqua per l'acqua, una grande specula di prendere dell'acqua, come si chiama delle persone, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.